Il 22 novembre a D'Arezzo si parlerà di imprese e si parlerà soprattutto di sicurezza. Sì, in effetti l'INAIL insieme alla ASL porta avanti un'iniziativa il 22 novembre, perso la Confartigianato, la mattina proprio per parlare della possibilità per le imprese di usufruire di incentivi, sia come sconto di premi, sia diciamo di incentivi economici per investimenti sulla sicurezza, quindi avremo questa possibilità di informare e formare gli imprenditori che sono interessati su tutte quelle che possono essere le risorse economiche che vengono messe a disposizione da INAIL per incentivare investimenti in sicurezza e i buoni prassi in sicurezza, che possono anche essere interventi di non enorme impatto sull'organizzazione del lavoro, ma che permettono effettivamente di incentivare la sicurezza e di ridurre in maniera anche consistente l'andamento infortunistico, che comunque rimane abbastanza consistente anche nella nostra provincia. Senta, un'ultima battuta, spesso ci sono convegni ultimamente che parlano che in alcuni momenti conviene quasi più essere in regola, anzi prepararsi, che poi subire le conseguenze. Sicuramente, poi teniamo presente che investire in sicurezza vuol dire anche avere dei forti sconti diciamo sui premi, per cui uno sconto di un 30% su un'azienda di piccole dimensioni è uno sconto che in questo momento ha di grande difficoltà economica è sicuramente uno sconto consistente. Per cui investire in sicurezza è sicuramente un vantaggio per l'impresa. Grazie a tutti.